Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della serie delle 7 con i nostri brawlers, signori miei, con Brawl Stars Siamo tornati con l'episodio, boh, non so più capito dove siamo arrivati, però, 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 siamo ancora qui, siamo ancora qui, signori miei Allora, prima di partire col video, io ricordo a tutti quanti che stasera alle 21 saremo in live No, scusatemi, stasera alle 21 e 30, a 9 e mezza, saremo in live con Formula 1 2020 In cui continueremo il campionato mondiale di Formula 1 con la Maulo Racing Quindi vi aspetto tanti e numerosi Detto questo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie di Brawl Stars Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maulo941 I link in descrizione Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate anche in descrizione il link per poterle farle Detto questo, partiamo con il video Ok ragazzoli, prima di partire col video abbiamo Iniziamo da destra e andiamo verso sinistra Una richiesta di amicizia che andiamo ad accettare subito Sosi Iopi con 356 coppe Chi sei Sosi Iopi? Scrivimelo nei commenti perché non... così non riconosco il vostro nick raga Il sinistra trovate il mio ID quindi chi voglia aggiungermi lo può fare Semplicemente non so come si faccia E poi vedremo eventualmente qualche volta di organizzare qualche partito tutti quanti assieme Vedo se riesco a organizzarvi per fare anche qualche live Vediamo un attimino come organizzarci Andiamo al negozio che c'è qualcosa di gratuito e noi le cose gratuite piacciono sempre Bah che cosa fracca Che cosa inutile Dei punti di energia per bullo Per il nostro altoro che nell'ultimo video ha fatto... dire che ha fatto schifo nell'ultimo video e dire poco signori miei Andiamo ad aprire tutti i vari... l'evento inizia tra due giorni e 18 ore Pezzo grosso, ok Si usa l'evento di squadra, si sbloccherà 800 trofei, 800 trofei Sete di potere, sblocca l'abilità stellare di un brawler per particello Non li raggiungeremo mai questi eventi raga perché 800 trofei è qualcosa di irraggiungibile Detto questo andiamo ad aprire il brawl pass che avevamo sbloccato l'altra volta No, non voglio le missioni, voglio le ricompense Abbiamo una cassa brawler, mamma che cosa brutta, cosa piccolina, cosa inutile Che c'è da questa cassa 15 monete d'oro, non ce ne fanno nulla Punti di energia per il messicano pazza che ormai secondo me ne ha per tutti quanti di punti di energia Punti di energia per scegliere la super saian, va bene così Che però non ci serve per poter potenziare Va bene, va bene, la prossima sarà più in là Ok, abbiamo 319 monete, vediamo se possiamo potenziare qualcuno Abbiamo bombardino e il messicano pazzo Bombardino quante monete vuole? 20, dai Ne possiamo spendere 20 monete per bombardino Il nostro ubriacone, signori miei Lo possiamo migliorare ancora? Ti posso migliorare? No, no, non ti posso ancora migliorare E poi abbiamo il messicano pazzo che vuole 140 monete, signori miei Ma sì, ma chi se ne frega, raga Ce li abbiamo, spendiamoli, dai così Il nostro messicano pazzo E giochiamo proprio con lui, signori Dai così, con il nostro messicano pazzo Ci andiamo a fare una partita di calcio Sì, sì, sono deciso Sì, andiamo a fare una partita di calcio con il nostro messicano Con il nostro nuovo Cristiano Ronaldo, signori miei Allora, io non ricordo cosa fa il messicano pazzo Però va bene Il messicano pazzo torna in campo Allora, per ora facciamo finte di niente Facciamo i fintitonti, ok Questi già stanno arrivando qua col pallone Questa cosa non va bene Là c'è un orso yogi molto pericoloso Ricopriamo la palla e ce l'andiamo Via, 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 sulla fascia Porca miseria Dove sono i miei compagni? Perché nessuno difende l'area di rigore? Dai, 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 dai Difendiamo, difendiamo, parti Messicano pazzo, partiamo malissimo Partiamo malissimo, messicano pazzo Sparra, 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 sparra Super colpo No, ho tirato il pallone Io tiro le note musicali Che cosa è bella, tiro le note musicali, signori miei Che ammazzo 1-1, grande, grande, grande L'abbiamo pareggiata L'abbiamo rimessa in piedi, signori L'abbiamo rimessa in piedi Dai, dai, dai Note musicali per tutti Note musicali per tutti Super colpo delle note musicali Ai, 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 ai Siamo messi male Siamo messi male Mannaggia, quel orso yogi insopportabile Dai che il nostro Il nostro compagno di squadra Recupera il pallone Dai che l'ha recuperato Dai, 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 dai Dove sta il pallone? Il pallone sta là sotto No, 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 via sto pallone Via sto pallone Recupera il pallone, recupera il pallone Uccidili tutti Messicano, vuoi recuperare un pallone? Porca di una miseria Uccidi Uccidili tutti quanti Mannaggia a te Devi ammazzare questo Ok Ok, 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 ok Orso che c'è Un piccolo orso yogi Ho venuto a rompere le scatole Ma grande 2 a 1 Ce la siamo partiti da casa E siamo anche stati migliori Spettacolo Non so minimamente come Ma siamo stati migliori Va bene così 8 coppe per noi Il nostro messicano pazzo Non delude mai, signori Saliamo al grado numero 4 Tanti belli obiettivi per noi Tante belle teschi per noi E va bene così Bello, bello, bello Coppe per noi Teschi per noi Ok Va bene Signori Vinta una Ne facciamo un'altra subito Senza perderci troppo tempo Dai, dai Il nostro messicano pazzo Prossimo video raga Domani invece voglio utilizzare l'ubriacone Mi assai che non utilizziamo l'ubriacone Dai, dai, dai Distruggili tutti No, no, non nell'acido Però mannaggia a te Occhio, occhio Grande No, no Stai andando nell'acido Zio Ecco, siamo morti nell'acido Proprio male, male, male Allora in quel cespuglio di erba Dovrebbe esserci un Un remistirio Se non sbaglio Dovrebbe esserci un remistirio La palla in questo momento Ce l'hanno in rossi Io non capisco Qua dovrebbe essere Ah no, il remistirio era morto Ok No, 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 no Scusate Facciamo fuori Facciamo fuori Allora, questo remistirio Deve varsi dalle scatole E l'uccidilo Uccidilo Dai, recuperiamo la palla Via, 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 via Via, via, via Stiamo lontano Stiamo lontano all'acido Dai, sulla fascia Grande Il nostro messicano pazzo Il nostro messicano pazzo Nei tripla tre Nei tripla quattro Si invola Da solo Entri in area di rigore Nessuno l'ostacola Il messicano pazzo Porta in vantaggio La sua squadra Grande azione Il messicano pazzo Che zitto zitto Recupera una gran palla Allora Iniziamo un attimino A fare un po' di ordine Magari ti levi dalla zona X Tu vorresti sopravvivere Ma ti ammazzo male io Non puoi sopravvivere Al messicano pazzo Devi morire Ok Non so cosa sia successo La palla ce l'abbiamo noi Poi stiamo andando bene in attacco La palla in questo momento è persa La palla in questo momento è persa Abbiamo fatto stragi di avversari Ok No 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 Uccidilo 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 Siamo due contro uno Siamo due contro uno Siamo messi male Siamo messi male Questo bregone Ok Dai dai Recupera la palla Bello signori miei Siamo i bomber della squadra Siamo i bomber della squadra Guarda come attiviamo ancora Sulla faccia sinistra Ci involiamo in area di rigore Aspettiamo Finta Finta Mi spinta sull'ubriacone Ci involiamo dall'altro lato Grande Mamma mia Signori miei Signori miei 2 a 0 Palla al centro Doppietta del messicano pazzo Non lo ferma nessuno Non siamo stati migliori Ma chi se ne frega Abbiamo fatto la doppietta Siamo il capo cannoniere della squadra Bella così E saliamo anche al grado 5 Mamma mia Il nostro messicano fa paura Dai così Mi piace Mi piace Mi gusta Mi gusta Tante coppe per noi Tante beteschietti per noi Va bene così Allora ragazzi Come si vuol dire Non c'è due senza tre Non c'è due senza tre Facciamoci la terza partita Con il nostro messicano pazzo Signori Voglio tre vittorie su tre Voglio tre vittorie su tre Abbiamo fatto tre gol Fino a questo momento In due partite Cioè Parliamone Tre gol in due partite Parliamone Io non so dove sono Qui c'è un remistino Che rompe le scato Oh li abbiamo uccisi tutti Che cosa bellissima Andiamo a difendere i nostri compagni Che stanno entrando in area di rigore Perché hai tirato il pallone Brutto scemo Dico Chi Aiai 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 Questo remistino Stanno bendo in segna Però l'abbiamo segnato Non so come signori miei Non so che cosa sia successo Abbiamo segnato Questa cosa è bellissima Riusciamo a lanciare un gran bel tiro Sì Ma stiamo morendo male Il nostro compagno di squadra Si ha rubato il pallone Grande così Grande così Dai 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 No Perché hai tirato da lontano Mannaggia a te Dai 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 Uccidili tutti Ma chi ho sparato? Non lo so nemmeno io C'è un re misterio che se ne sta andando Che va fermato L'abbiamo fermato Là c'è un bull che va fermato subito Dai 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 2 a 0 Ma che bellissime partite Siamo stati anche migliori Grande così Spettacolo Io capisco che il migliore è quello che fa più danni Ma non so minimamente come faccio a fare tutti questi danni Penso di fare schifo Vinci 6 partite a football brawler 250 tesche E sconfiggi 18 nemici in football brawler 250 tesche per noi Mamma che bordata Forse riusciamo ad arrivare al prossimo pass Forse Forse ci arriviamo Sì Il prossimo pass è arrivato signori miei Ma lo apriremo nel prossimo video Detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao